Riassetto in corso per la giunta comunale di Belluno. La notizia, arrivata in serata attraverso una nota del sindaco Massaro, è che gli assessori Maurizio Busatta e Valentina Tomasi hanno lasciato ufficialmente il loro incarico. La decisione risale a qualche mese fa, ma è stata ufficializzata solo nelle ultime ore. Valentina Tomasi, classe 1982, ha ricoperto il ruolo di assessore alle politiche sociali e all'istruzione dal 2012, data di inizio del primo mandato di Jacopo Massaro, risultando peraltro la più votata dai bellunesi con 372 preferenze. Pochi i commenti rilasciati alla stampa, ma la promessa è di tornare sul tema durante un prossimo incontro. A Maurizio Busatta, classe 51, i referati all'attuazione dei programmi, alle società partecipate, ai servizi informatici e demografici. Da parte sua, la precisazione è che sin dall'inizio per il suo ruolo in comune si era parlato di un incarico a termine. Non si tratta di una novità, ha fatto sapere, questo epilogo era previsto. Ora avrò più tempo da dedicare alle mie passioni, in primis l'Europa, ha concluso Busatta. Con la maggioranza stiamo già lavorando ormai da alcune settimane al riassetto e quindi nei prossimi giorni sostanzialmente spiegheremo un po' i dettagli di tutta questa operazione che avevamo appunto pianificato come maggioranza e pianificato con gli assessori interessati. in questi giorni appunto presenteremo il nuovo assetto di giunta e lo faremo insieme ovviamente agli assessori uscenti, insieme ai capi gruppo. Intanto giunge la replica dell'opposizione. Dovrebbe essere finalmente chiaro a tutti che questa giunta non lavora a un progetto amministrativo per la città ma è retta da un progetto puramente politico. Il commento di Roberta Olivotto di Belluno è di tutti. È insopportabile che questa amministrazione continui a galleggiare senza una meta.